Via Libera della Giunta di Ponte Cagnano-Faiano all'istituzione dell'Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica. L'ufficio in questione sarà allocato in via provvisoria all'interno dell'ex tabacchificio Centola e nelle intenzioni dell'esecutivo rappresenta il fulcro di una strategia più ampio respiro finalizzata a dare slancio al settore. La gestione dello IAT sarà affidata, mediante una procedura pubblica di selezione, alle associazioni che già da tempo sono impegnate ad elaborare progetti legati al territorio.